Inaugurata la presenza del Ministro per i beni culturali Dario Franceschini e delle massime autorità regionali, la riallestita Galleria Sabauda di Torino. Si completa così, all'interno del Polo Reale, uno dei progetti con il quale il Piemonte si presenta gli importanti appuntamenti del 2015, tra cui l'Expo, la visita del Papa e l'ostensione della Sindone.